è molto bello vedere che dietro a questa azienda c'è una famiglia che si prende cura non solo degli affari ma anche dei suoi dipendenti che offre gli spazi sempre più accogliti per loro è sicuramente per loro un valore a tutto ecco appreziatelo perché è veramente un qualcosa che non è da è un orgoglio per me stare qui in mezzo a voi e dopo tanti anni avere un'accoglienza calorosa da parte vostra ma soprattutto vedere tanta gente che lavora con noi che è contenta che ha fiducia in noi è veramente un grande grande piacere abbiamo un'esperienza abbiamo delle persone che sono nate in predittoria e ci hanno insegnato cosa vuol dire lavorare duro lavorare da portare davanti un'azienda avere cura di propri dipendenti e cercarli fare meglio tutti i giorni quando abbiamo poi lavorato insieme agli architetti per la progettazione edificio ovviamente c'erano alcuni punti cardine sicuramente la sostenibilità sicuramente il fatto di avere un ambiente innovativo e la possibilità di stimolare molto le relazioni sia all'interno delle aziende stesse che anche tra le varie aziende nel nostro gruppo per fortuna in questo momento cosa sta andando verso giusto grazie all'impegno di tutti e quindi ci tenevo altro ovviamente a ringraziare tutti i team di tutti i dipendenti quindi facciamo una bella live sicuramente perché ovviamente noi come figlia ci avevamo messo il massimo ma senza di voi ovviamente non lo avremmo mai realizzato quindi grazie 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 grazie